ah io sono davvero molto triste cosa succede? che cosa succede? vuoi cubattere i neri come a cerchi? che c'è freddo? aspetta c'è un'idea io penso che avevo le cacce le cacce vediamo le mutande le mutande amigliaz mamma che lo sa non è per incostare scusa scusa adesso guarda c'è la neve ecco ci faccio le mettere dentro ecco può farlo ridere wow fighe ci sono altri ricordi altri ricordi vediamo le mutande a te yeah segna aspetta ecco la bomba rack 3 2 1 drop it yeah sono amicando si sono amicando oh no c'è qualcosa no 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 no